Sarebbe così sbagliato molto semplicemente rispondere a chi si comporta così benissimo? Il tale marchio ha fatto questo, sappiatelo tutti e comprate di conseguenza. Anche questa è una tradizione del consumo critico che c'è molto nei paesi anglosassoni, nel centro-nord Europa. Da noi purtroppo c'è poco e spesso magari è basato più su ragionamenti, magari motivi. Su campanilismi ma non su... Esatto, ma non tanto su questi ragionamenti razionali. Perché in altri paesi sarebbe inconcepibile che i politici andassero in giro con macchine non prodotte nel paese. Invece da noi abbiamo tutti i politici che vanno in giro con le BMW, le Audi. Per carità, uno è libero di pensare che la BMW e l'Audi sia meglio della Fiat, della Lancia. Però se rappresenti il paese, è come dire che noi italiani da soli ci diciamo che non siamo capaci a fare le macchine e dobbiamo comprare quelle stranieri. Cioè nel momento in cui è facciata, quello che stai facendo è simbolico e ti comporta in maniera simbolica. E devo dire che purtroppo, questo l'ha detto anche Grillo sul suo blog, io sono anche d'accordo sul fatto che poi questi stabilimenti, anche questi dell'Indesit, delle marche, sì, sono stati messi in piedi da una famiglia che ha fatto l'imprenditore, ma sono stati messi in piedi anche da migliaia di persone che ci hanno lavorato per negli anni. Cioè un'azienda è proprietà sicuramente di una persona che giustamente viene premiata anche perché l'ha messa in piedi, ha rischiato, è giusto che guadagni bene, che viva benissimo, eccetera. Però comunque è anche uno sforzo collettivo di un territorio, di una comunità. E quindi non è che puoi dire, beh adesso è mia, come giocarsi al pallone, mi prendo il pallone e me lo porto via perché il pallone è mio. E questa è una cosa che appunto non è accettabile perché comunque l'azienda deve avere una responsabilità sociale verso il territorio che l'ha mantenuta, verso il paese che spesso l'ha sovvenzionata anche lautamente negli anni. Anche perché poi molte di queste aziende puntano molto sul fatto che sono italiane. Sì, oltretutto noi abbiamo il Made in Italy che è un marchio di qualità e però è stato usato veramente negli ultimi vent'anni per dire che Made in Italy è una roba che viene prodotta in Turchia, in Bangladesh, arriva in Italia, ci stampa sopra un marchio con scritto Made in Italy e siccome io poi azienda finale sono italiana la vendo come Made in Italy. Questa è, cioè voglio dire, non è una cosa accettabile né per noi italiani né per poi chi compra, magari compra una roba con scritto Made in Italy, si trova una roba di bassa qualità fatta da qualche parte nel mondo e quindi poi magari la prossima volta non compra più nel Made in Italy. Quindi è anche un danno poi nel lungo termine per l'Italia. E quindi questo appunto è una cosa anche su questa, mi sento molto anche in sede di campagna nazionale, che il Made in Italy deve essere una roba fatta interamente in Italia, ovviamente le materie prime magari arrivano da fuori, ma il lavoro di produzione deve essere fatto in Italia. E anche su questa roba delle fabbriche ingesite secondo me bisognerebbe valutare se veramente non ha senso che queste fabbriche diventino proprietà, cioè tu te ne vuoi andare, vattene pure, ma le fabbriche ce le lasci, voglio dire, se non altro facendo il conto di tutti i soldi che ti abbiamo dato come collettività in 50-100 anni di esistenza dell'azienda, perché non è che non te ne abbiamo dati, cioè perché poi in queste cose arriva la sacralità della proprietà privata, che è giusto, però veramente in Italia spesso l'industria è stata privata solo quando c'era da fare i soldi e poi pubblico ogni volta che c'era un problema arrivava la collettività e ti dava i soldi. Allora se ti abbiamo dato i soldi nei momenti difficili, adesso che nel momento difficile ce ne abbiamo noi collettività e tu vorresti andartene a farti i soldi altrove, ti chiediamo indietro qualcosa noi, mi sembra soltanto il minimo.